Ciao da Engeviaticus, oggi ci troviamo a Madrid, precisamente a Errena Sofia, ovvero il Museo di Arte Contemporanea e di Arte Moderna di Madrid. Questo museo è stato inaugurato l'11 settembre del 1992 per volere delle ali di Spagna ed è situato nel vecchio ospedale centrale di Madrid. All'interno possiamo ammirare molte bellezze d'arte e la più famosa è sicuramente la Guernica di Picasso. Inoltre ci teniamo a dirvi che dalla zona del Isias, dove noi stavolta abbiamo deciso di soggiornare, dista solamente 750 metri. Quindi, con la scusa di una bella passeggiata, potete venire qui a Errena Sofia a ammirare l'arte contemporanea. Infatti potete trovare tutte le opere artistiche dal Novecento in poi e gustarvi una bella giornata. Quindi, continuate a seguirci sui nostri social, visitate Madrid e seguite Engeviaticus. Ciao!